Ciao a tutti, oggi con Giorgio, scusate, siamo in compagnia di due bestioni che sono della simpatia gimbo unica, sono dei Bassetown, Giorgio. Esatto, qui oggi abbiamo come ospiti due Bassetown dell'allevamento Luna Caprese di Francesco Lamarca, che ringraziamo perché, a parte questa cortesia, sono anche 33 anni che si occupa di allevare questi cani e di creare comunque dei soggetti bellissimi, vincitori oramai in tutto il mondo, quindi praticamente sia in Europa che in America. Qui abbiamo un maschio, old fashion boy della Luna Caprese e copyright della Luna Caprese. Diciamo pure una cosa, Fiore, lui è il papà di copyright, qui abbiamo quindi due soggetti, un maschio e una femmina. L'allevamento appunto della Luna Caprese, come diciamo, sono 33 anni che si occupa di allevare e selezionare questi cani. Praticamente il Bassetown, come dice il nome, è un bassotto segugio, quindi praticamente sono cani, vengono chiamati segugi da pista di sangue. Loro hanno questa grossa propensione di seguire naturalmente con l'olfatto le tracce appunto ematiche di sangue che possono lasciare eventuali prede ferite, quindi sono dei cani che a piedi con il cacciatore seguono questa pista. A questo punto forse un'inquadratura di Gimbo ci permette perfettamente di capire di che cosa madre natura li ha, diciamo, più o meno dotati. In effetti praticamente tutta questa pelle che loro hanno in eccesso, che potrebbe essere e sembrare uno scherzo di natura, in realtà è stata proprio creata da madre natura per... Scusa, vorrei dire che pesano anche 40 kg in uno questi cani. Le femmine dai 25 in su e i maschi intorno ai 35. Allora, cosa succede? Tutta questa pelle di cui madre natura li ha dotati di queste lunghe orecchie, queste labbra, in realtà hanno una grossa, diciamo, funzione, diciamo, perché cosa succede? Il cane quando annusa, praticamente le orecchie così lunghe, vanno praticamente a fare un cono con il naso, quindi praticamente l'olfatto è stimolato e non viene distratto. Anche la quantità di pelle... Scusa, ma Gimbo sei un po' invadente. Gimbo tira. Anche la quantità di pelle che hanno intorno agli occhi è una protezione che madre natura gli ha dato proprio per questo motivo, perché loro, rimanendo sempre con la testa piegata, potrebbero ipoteticamente ferirsi o farsi male. Quindi, diciamo, la produzione esagerata di pelle... Scusa, come dove l'occhio? Gimbo? La produzione esagerata di pelle ha comunque proprio un significato funzionale. Allora, loro sono comunque dei cani da caccia. A tutt'oggi vengono considerati tra i cani che hanno l'olfatto quasi più sviluppato. Abbiamo detto... scusate, non abbiamo detto, però i bloodhound sono considerati i cani con l'olfatto più sviluppato. E, per esempio, se pensi, Fiore, che è in America, una prova, diciamo, più o meno, diciamo, olfattiva di un bloodhound è addirittura presa in un eventuale processo quasi come una prova. Esatto, quasi come una prova. Per cui anche i bassettound fanno parte, come abbiamo detto, i bloodhound del gruppo sei, quindi cani dei segugi, cani da pista di sangue. Oggi come oggi sono praticamente allevati moltissimo in Inghilterra, che è la loro patria di origine. L'origine di questo cane è presa in considerazione forse alla base in Francia, quindi la loro origine deriva dal bassett artesian norman, che è comunque molto simile a un bassettound, ma con una struttura molto più leggera, quindi molto più rilevata sugli alti, meno pelle, un cane, diciamo, più essenziale. Il bassett artesian norman ha dato origine poi, praticamente, con incroci con altri cani, a questa razza che oggi conosciamo. Quindi l'Inghilterra è stata, diciamo, la loro patria di origine, in America pure sono allevatissimi, per cui fondamentalmente anche gli americani hanno dato moltissimo, come tutti i paesi, come abbiamo sempre detto, del nord Europa, ha incentivato questa razza. Oggi come oggi sono, diciamo, fondamentalmente dei cani da compagnia. Qui, ripeto, tutti i cani che noi presentiamo, fiore hanno comunque delle origini, delle caratteristiche, e loro comunque, oggi come oggi, vengono tenuti in considerazione come cani di compagnia. L'indole, la potete vedere, è buonissima, per cui... È paciosissima. Per cui sempre noi li raccomandiamo a, diciamo, a proprietari, non so, sono cani che possono comunque vivere con bambini felicemente. Sono cani abbastanza sorgnoni, però portati sempre all'esterno, si possono comportare come un vero e proprio cane da caccia. Un'altra particolarità a fiori di questo cane, che è tenuta in grossa considerazione anche nelle esposizioni, è la coda. Loro devono sempre portare la coda molto alta, quasi, diciamo, dritta, perpendicolare. Dritta per solo. Esatto, questa è un'altra prerogativa e caratteristica che può permettere, magari, a un cacciatore di, in un campo con dell'erba piuttosto alta, può far sì che il cane venga visualizzato. Facciamo vedere la coda? Infatti la coda quasi sempre ha un pennacchio bianco, proprio per questo motivo. I colori sono praticamente ammessi tutti, c'è il color mogano, c'è il tricolore come questo, c'è il fulvo, diciamo che la particolarità, diciamo, del... Ah, ci sono anche tinta unita? Sì, diciamo che ci sono, sono magari meno, non dico come meno conosciuti, ma forse un po' più rari il tinta unita. Per esempio c'è il mogano, che è preso in considerazione come uno anche dei colori più belli, però, diciamo, meno visto, diciamo, di questi tricolori. Queste sono più o meno... La macchiatura, anche qui, non riconosce praticamente delle regole, quindi le macchie possono essere distribuite, così, diciamo, senza alcun tipo di problema. Anche le orecchie molto lunghe che tu dici... Ah, io ti volevo dire questo, infatti, è la prima volta che vedo dal vivo dei Bassetown e che le accarezzo, se non mi è mai capitato di incontrarli. E la prima volta che ho scelto, quindi, il peso delle orecchie è incredibile, le pesano tantissimo. Come dicevamo all'inizio, sono proprio delle orecchie che la macchiatura gli ha dato, perché loro, usando per terra, creano naturalmente quasi proprio una barriera. Anche la struttura fisica, diciamo, più o meno del... E sì, tutta la pelle in eccesso che hanno. Esatto, anche quella, comunque... Perché è tantissima. È una protezione. Diciamo che, praticamente, oggi come oggi, la difficoltà nell'avere un bel Bassetown è di coniugare, diciamo, più o meno queste due caratteristiche, cioè una certa possenza, diciamo, quindi robustezza, perché sono cani camminatori. Questo lo potete perfettamente vedere dalle zampe perché hanno dei grossi piedi e hanno, naturalmente, anche degli angoli, quindi scapolo omerali, ben pronunciati. Questo fa sì che il cane possa, diciamo, con un allungo coprire maggior numero, diciamo, di metri sul terreno. Quindi, la loro particolarità è di essere, appunto, dei grossi cani camminatori. Infatti, voi li vedete adesso qui, un po', come si dice, spalmati per terra. Esatto, so che hanno una resistenza fisica notevole. Esatto, sono dei grandissimi camminatori, quindi è anche la struttura, più o meno, dei piedi, ma anche la postura, che ha, diciamo, un leggerissimo, leggerissimo mancinismo. Pure questo leggerissimo mancinismo, Fiore, è dato il fatto che il cane, naturalmente, annusante... Che cosa intendi, perdonami? Mancinismo sono le zampe, tipo, a papera? Esatto, come si diceva una volta, 10 e 10. Quindi, cioè, praticamente, c'è una deviazione all'esterno, esatto, di questi piedi. Pure questi piedi, Madre Natura... Io vorrei, scusami, Giorgio, infatti mettere tu pari e farlo vedere, perché hanno queste zampe che sono veramente particolari. Allora, questo leggerissimo mancinismo, in realtà, è sempre un regalo di Madre Natura, proprio perché loro, camminando, praticamente, non vanno a coprire, praticamente, con il loro stesso odore, con i loro piedi, quella che potrebbe essere la traccia, appunto, del selvatico che stanno seguendo. Per cui, loro non oppongono nessun tipo di barriera, quindi mettono questo naso per terra, queste orecchie li fanno proprio da cono, quindi tutto quello che sono gli odori che ha lasciato la selvaggina, per loro sono, naturalmente, più facili da rintracciare. Ecco. Una particolarità del Basset Town, chi l'ha avuto forse lo sa, è, naturalmente, diciamo, tutta questa quantità di piega, che è una bellezza per loro, però, fondamentalmente, può predisporre, predisporre il cane, avere delle dermatiti, specialmente qui sulla giogaia, dove, naturalmente, l'uso di un collare o di un guinzaglio, può creare una maggiore, diciamo, adesione. Comunque, a me può succedere qualsiasi cosa. Io seguo. Vai dritto per la tua sera. Strangolata. Presa la gola. Perdona, dicevi. No, dicevo che la particolarità, appunto, è di tenerli molto puliti. Loro hanno una seborrea grassa, nel senso che questi cani da caccia hanno comunque, sempre da madre natura, adesso ti controllo se succede qualcosa con Gimbo. Hanno da madre natura, appunto, questo dono, chiamiamolo che è una seborrea grassa, che deve, appunto, proteggere il pelo dal freddo, ma anche dall'acqua, perché, quindi, praticamente, è quasi un pelo, non dico... Nuotano anche, eh? Non guardo il fondo. È un pelo abbastanza idrorepellente. Questo, naturalmente, se non è più, diciamo, usato per il motivo che madre natura l'ha fatto, quindi sono, diciamo, non dico obbligati, ma vivono in un appartamento, questa seborrea, ti serve aiuto. Non stavo pensando, ecco, forse lo lascio due secondi a fare un giro. Questa seborrea grassa può determinare, naturalmente, un odore, diciamo, eccessivo. Questo odore eccessivo, naturalmente, con dei lavaggi, sempre con champi specifici, con dei pH particolari, può, naturalmente, far sì che la pelle abbia, naturalmente, un odore inferiore, può far sì che, naturalmente, anche l'igiene del mantello sia mantenuta. Il Bassetound è un cane, come detto, a pelo corto, ma, naturalmente, ha un sottopelo, per cui, delle spazzolate, o delle pettinate, piuttosto frequenti, faranno sì che questo ricambio di pelo possa essere, come si dice, un po' contenuto. Molto spesso, diciamo, i proprietari del Bassetound vengono da noi e ci danno alcuni, diciamo, più che suggerimenti, ma si lamentano che il Bassetound ha sempre gli occhi abbastanza rossi e arrossati. Questa è un po' una prerogativa della razza. Loro hanno un po' un taglio dell'occhio quasi romboidale che fa addirittura vedere la terza palpebra, che è quella palpebra che il cane ha all'interno dell'occhio come protezione. Questa è una caratteristica del Bassetound, quindi chi ha un Bassetound e ha un occhio un po' arrossato o un po' sceso, comunque non ne faccio una questione col veterinario perché non ha nessuna colpa. Senti, questo tipo di occhi però hanno bisogno anche di un'attenzione più particolare. diciamo che come diciamo prima, essendo un cane da caccia, la rusticità del Bassetound, quindi la robustezza, la capacità di rimanere diciamo a temperature basse, a temperature alte, fa sì che sia un cane estremamente rustico, quindi grossi problemi assolutamente non ne ha. Certo, un cane che Bassetound, abbiamo detto che invece di vivere in campagna, di seguire diciamo tracce di animali feriti, vive a Roma, noi siamo a Roma naturalmente, quindi parlo di Roma, può essere anche Milano, e comunque naturalmente ha questo naso sempre per terra, anche queste orecchie rimangono sempre per terra. Quindi fondamentalmente una cosa che bisogna fare avendo un Bassetound è cercare di tenere sempre pulito più o meno questo margine. L'orecchio. Esatto, perché questo naturalmente con tutti gli agenti atmosferici esterni di una città si possono creare anche lì delle dermatite e delle dermatosi, quindi è importante chi ha un Bassetound che vive in città di tenere fondamentalmente pulito tutto quello che è il margine delle orecchie. Senti, Giorgio, ovviamente questo tipo di cani quando mangiano hanno il problema che le orecchie finiscono dentro la ciotola. Io so che esistono delle ciotole speciali per il Bassetound. Esistono delle ciotole speciali che sono le ciotole quelle a cono molto alte in cui può entrare solo il muso. Poi naturalmente esistono come abbiamo fatto vedere anche per altre razze delle cuffie che uno può mettere naturalmente in modo da evitare. Esatto, o se no fondamentalmente quello che abbiamo più o meno accennato un po' nelle nostre trasmissioni è che l'uso di alimenti secchi naturalmente va a tagliare come si dice la testa al toro e quindi non ci fa sporcare le orecchie. Senti, questa razza di cane problemi può avere? Sta tremando lei? Ma diciamo problemi nessuno, nessun problema assolutamente. Quindi diciamo che fondamentalmente sono cani come detto da caccia, solidi, robusti e indicati veramente per chi vuole avere abbiamo detto un compagno ottimo in campagna, ottimi con i bambini e l'ispettore Colombo giustamente ce lo insegna. È vero, è il cane dell'ispettore Colombo. È l'ispettore Colombo. Allora Giorgio ti ringrazio tantissimo. A te. Grazie anche alla pazienza dei nostri amici a Quattro Zampe e vi ricordo il nostro sito www.alice.tv ricordate di venireci a trovare anche nel forum. Ciao a tutti, a presto. Ciao. Ciao.